Spulciano il fascicolo dell'accordo tra il Comune e l'AMIU e ci trovano un pezzo di terra ceduto all'azienda dei rifiuti barese non previsto nel contratto. Il Comune, all'epoca guidato da Gianni Mongelli, per entrare nella capitale sociale aveva concordato la cessione della palazzina in via Miranda e l'impianto di multiselezione, maio entrato in funzione, per un totale di 4 milioni di euro. Sciagura e Cislaghi oggi scoprono e denunciano che, all'insaputa di tutti, anche la particella in cui sorge l'impianto di biostabilizzazione è di proprietà di AMIU Puglia. Si tratterebbe di una grande disattenzione. Possibile che sia andata così? Sicuramente possibile, visto che abbiamo tutti gli atti che confermano quello che diciamo. Nel momento in cui sono state acquisite le quote da parte del Consiglio Comunale, quindi è stato rogitato l'acquisizione, il Consiglio Comunale ha dato in acquisizione all'AMIU e al Comune di Bari un bene, un immobile in più rispetto a quello che era stato pattuito e soprattutto che era stato verificato dal tecnico nominato dal Tribunale che aveva determinato un valore. Per cui il valore doveva essere 4 milioni e 200 mila euro, 2 milioni e 350 per la palazzina di via Miranda e 1 milione e 8,50 per quanto riguarda il centro di multiselezione di passo precioso. E in effetti noi invece gli abbiamo dato anche il centro, gli abbiamo. Con quel passaggio, in maniera impropria, è stato conferito anche il centro di biostabilizzazione che ha un valore nettamente subito rispetto a quello che è stato pattuito. Oltre al malaffare, cosa si può ipotizzare? Io non vorrei essere cattivo, sicuramente ad essere buono c'è stata tanta disattenzione da parte dell'amministrazione comunale, da parte del notaio, perché io se fossi stato il notaio avrei chiesto delle piantine, perché la descrizione il sindaco di Foggia l'ha fatta e ha detto che dove era costituito da una tettoia, quindi ha specificato effettivamente che cosa doveva essere costruito, soltanto che poi in maniera involontaria probabilmente ha inserito particella subunità 2 e subunità 3, di cui la subunità 2 è il centro di multiselezione ma la subunità 3 è l'impianto di biostabilizzazione, che non era assolutamente previsto che fosse dato in alienazione all'AMIO.